Dunque, allora, io ho conosciuto Riccardo sul set di un altro film che si intitolava Per Amor Vostro, dove lui era uno dei produttori, perché il film era, la protagonista era Valeria Golino, e quindi siamo andati a Venezia, Valeria ha vinto il premio come miglior attrice protagonista con quel film, per cui io lo avevo conosciuto già allora, lui in quel periodo era fidanzato con la Golino, quindi era sempre con noi sul set, ma non lo avevo visto, come dire, al lavoro, avevo visto dei film con lui e l'ho sempre ritenuto un bravo attore, ma vederlo lavorare con un regista come Michele Placido mi ha fatto capire che lui è veramente uno che si mette proprio a servizio del personaggio che deve fare, non è divo nemmeno un po', è una persona educatissima, saluta tutti sul set, non si lamenta mai, è uno preciso, è veramente una persona, un grande professionista ed è una splendida persona. Guarda Emilio, non lo so, nel senso genio e sregolatezza se sei Maradona nello sport o se sei Carmelo Bene a teatro, ma il grande attore secondo me non è in una bolla, non vive in una bolla, il grande attore sa quello che fa, il grande attore ha ben presente quello che sta facendo, come il grande Edoardo ci ha insegnato, bisogna essere talmente finti da fare il giro a 360 gradi e diventare veri. Ti ringrazio, ti ringrazio, detto questo trovo vergognoso che si mandi in onda ancora una trasmissione fatta 30 anni fa e non si caccino fuori gli attributi per produrre un nuovo programma con i mezzi che abbiamo oggi di quel genere e di quella portata, lo trovo veramente vergognoso, grazie comunque. No, non ho scritto libri di crescita personale, non è detto che un giorno non lo faccia, ma per il momento ho scritto solo romanzi, approfitto per ricordare che gli ultimi tre Tienimi per mano, La ragazza di Terezin e Lilium, li trovate su Amazon, basta digitare nella barra di ricerca Fabio Brescia Libri, grazie a chi sceglie di leggermi. Cosa faccio a Pasquetta? Mamma Agnudur Taniel? Purtroppo non posso raccontare molto del personaggio che interpreto in Blackout, posso dirvi che è il fratello del protagonista che è Alessandro Preziosi, posso dirvi che è un personaggio molto scuro, molto coinvolto in cose poco chiare, non vi posso dire assolutamente nulla della trama perché è un giallo avvincente, dal 23 di gennaio ogni lunedì sera sul Rai 1 non vi perdete per otto settimane blackout. Questo messaggio andrebbe tatuato addosso alla gente, prendere coscienza che la vita è esclusivamente nelle nostre mani è il primo passo verso qualsiasi obiettivo che si voglia raggiungere. Ragazzi prendete la frase del nostro amico il mago e ripetetela dieci volte tutte le mattine, poi prendete il quaderno a righe e copiatela dieci volte al giorno perché è veramente la chiave di tutto, cioè entrare nell'ordine di idee che la vita è nelle nostre mani, non aspettare niente dall'esterno, non aspettare niente che cada dal cielo, nulla ci è dovuto e tutto quello che abbiamo lo dobbiamo costruire noi, siamo quello che desideriamo di essere nel nostro profondo, nel nostro inconscio. Se non siamo riusciti a fare niente nella vita probabilmente il nostro inconscio ci sta dicendo che ci dobbiamo lavorare su a quel senso di inadeguazione. Ma scherzi, i vampiri energetici sono una realtà acclarata e bisogna saperli riconoscere, bisogna saperli rifuggire perché bisogna scappare a gambe levate da questi personaggi che succhiano l'energia delle persone per farla propria senza dare nessun'altra energia in cambio, semplicemente come dei parassiti, si aggrappano alla schiena delle bestie che trovano per la strada. È una cosa nella quale credo fermamente e credo anche di saperli riconoscere. Ma come spesso succede il problema è che il pubblico confonde attore e personaggio. Recitare è un mestiere, interpretare un ruolo è un mestiere, per cui di conseguenza nessun attore è uguale ai personaggi che interpreta e se lo è non è un attore.